Il positivo in posizione Hai tutti i diritti in questo video, Razer Se non hai pinza, ve lo so Non dire in posizione No, i fatti contano più delle parole Ricarico Io provo a sconti Da dove cavolo si passa No, vabbè Colpito qualcuno No, ho colpito uno Mi sa che arrivano da me Mi soffia di fuori E' troppo calmo Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona Oddio Non si sente una mazza, non so come mai Non sento l'audio Quanto era buono il cuffie che avevo prima No, un ascensione Un operatore areato rimasto Mi ha perso davanti Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio C'era C'era capitato Stavo correndo due piani sopra Per un certo punto Torna indietro Da solo con l'hug E con l'hug mi spora davanti praticamente Ma ti allaggia come un bastardo È normale No, ma guarda tutto Visto le dico Ma lui che la cava? Sorry L'ho fatto carriare Perché giustamente mi dovevo via Eran buonissime le cuffie che avevo prima Sì, sono rotte E quindi Veramente è rotta le cuffie Ma quelle vecchie Lì con il microfono Adesso ho le cuffie qua Boh Cioè, va bene, si sente però Si sente però Non sentivo da dove arrivava Invece Io con le cuffie della Samsung Non so ne se passare manco niente E se le mie vecchie le ho rotte Quella era gaming, le ho rotte Ok, ho messo lo schermino in basso a sinistra Degli fps che ho E della connessione Quanti da Io per termine sempre Per vedere quanto fa schifo Sapevo come Mi scordavo sempre Come all'inizio Quando facevi l'inizio Avevo il... come si chiama? Il... L'audio francese E quindi E quindi Qua non c'è nessuno in questa Qua non c'è nessuno in questa Non c'è nessuno Non c'è nessuno da sopra Sto scendo di nuovo Sto scendo di nuovo Regà vado da sopra Regà ci sta vado da sopra dove sto andando io Vabbè Provo a coprirvi Se mi coprite sopra vengo giù anch'io Provo a coprirvi Una macchina Vi trovate la prima macchina a destra Regà ecco mi voleva stunare Sanno che stavo venendo Perchè stavo incontro di Diego Con queste differenze C'è un nemico Drone è attivato Ma sono infutati Nemici Continuazione droni Guarda che merda umano Vado col drone Non lo ascolto la roba Eh proprio ho messo l'acqua e Entrivo là Non mi fa Mira di merda Regà venitemi di casa Sto sempre dietro Sto sputtando io li continuo Prova a entrare a pusharlo C'hanno l'eco C'hanno l'eco C'hanno l'eco C'hanno l'eco Ti dico se l'hai stordito Ancora no Lancia un assordente Per il vento Per il vento bravo Scusa Porco addio Simone Porco addio Eh scusso L'ho visto in terra Ci sta vigil Sulle scale Tutta a sinistra Drono Ok sperimento vigil Bravo Ray Drono dentro Tutta a sinistra Subito obiettivo cieco col drone E la e archivi E la e archivi E la archivi Drono copritemi Drono copritemi Solo echo dentro dentro c'è eco mi sa che ho perso ela però no è dentro l'angolo mamma mia non riesco più a giocare dovrei smettere un po' di giocare e tornare più tardi dovrei smettere che ne so adesso non c'è mai ma mi posso fare la canina maniera a me manca scovaglia oh prima e chi ha preso la killer? a me più gioco più gioco male non ho capito Razer come fa a essere il mio nome? quel gruppo tu Razer quando hai avuto quel periodo che giocavi male cosa hai fatto? ha continuato a giocare mi sono taglia del cazzo infatti adesso non è più Razer ma il Razer ma è la Razer no è che in questi giorni sto giocando dovrei smettere anche io tipo questa settimana fa che arriva smetto di giocare un po' e torno dopo no io quando non riesco a giocare si parla un po' di più però ce l'ho di farlo perché cioè giocavo molto bene prima adesso questa settimana ho giocato di male tanto si vedeva delle pirette di due porti ho fatto un switch ero se vieni mi a debri una porta da vieni quella e poi vieni qua quella dove? bo mi sta da sopra ma l'ho preso in te e sta a sparare tutto di sto cazzo polca madonna sta fuori garage capitano no ci ha calma attivan o più buoni 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 trai uno su scala ecco la twitch qua hai dato capo no vabbè non ci credo dai ho laggato ho laggato c'è un altro twitch qua lo stai animando lo stai animando non ti fa da dietro occhio da dietro l'ultimo nemico rimasto ok sta a destra sta a destra ooooh guerriero che classe che classe ho laggato a bestia l'avete visto da quando è che non facevo ste robe io da quando è che non facevo ste magie ste proate da quando non giocavi più bene la serie è impeditivo ok si si adesso qua mi devo un po' mamma mia è andata bene però è andata bene diciamolo mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede ancora mi chiede grazie per le info mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede non l'ho ucciso con il drop shot però almeno mi sono steso razer alpinista ancora 5 secondi sono tutti in garage io potrei andare avanti con lo scudo della verità se avete una camera da piacere devo metterlo sopra fate anche un bello si si è messo allagando il pulacchio ma dove va va davanti da qua da qua spero vero da qua da sopra la trapia come detto lui mi chiede qua i i i coprimi gatto che drono anche se non sarebbe il lavoro di blitz ma va bene sono per vedere dentro se qualcuno non riesce a dronare e uno viene con me mi fate un gran bel favore uno dietro macchina sempre non per te il drone io vado avanti con lo scudo me ha fatto la bua doc è morto il doc dov'è se ando fatto e ando per via un grande racer prepari il cucciolo no no ho dimenticato di trovare cavo a capire che della madonna contro chi attaccante che ha trovato per tutto non ho trovato cavo sono un coglione di merda è colpa mia non sto facendo l'interno secondo me raga no archivi no siti archivi archivi ma no schifo 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 che avete fatto tutti porpo dio che bello i besti miei live live perchè sei live ma non siamo live è proprio santa dobbiamo proteggere il contenitore di biorizio non c'è non c'è non c'è sicurezza e dai 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 si devo cambiarlo devo cambiare quello di whatsapp si mancano 10 secondi no no ma proprio cambia il numero whatsapp è siamo a 5 secondi siamo a 5 secondi il 392 il drone nemico ha individuato il contenitore di biorizio dispositivo attivato dispositivo in gioco si 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 ma la mamma non dire nulla alla mamma arrivo ragazzi si 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 pronto pronto ero al telefono con mio padre scusate si 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 es si see non c'è in mezzo si muova che cazzo è troppato eh beh io ci ho provato qua appunto mi svegliati dai cazzo dai ho fatto 7 kill adesso qua ero al telefono con mio padre durante la fase di preparazione che mi ha provato a chiamare termite vieni con me qualcuno bravo a usarlo perché sono scarsissimo con termite e almeno quello lo so usare open space allora a sto punto sicuro vanno archivi raga te lo giuro se mi fai a marire prima che l'altro anche solo uno dei miei internet dov'è uscire se non mi fai dovete trovare il contenitore di mio rischio invece di fare team kill penso a fare qualche kill vera ha una tinchina e meglio per essere che non sono riuscito a vedere come andata il contenitore di mio rischio del round semmo passiamo da dove mi hanno ucciso a me e non riesco a uccidere quella mi uccide quante è uno che gioca di là ci sono due che giocano di là preservo il drone lo metto lì open space ottimo 10 secondi si vabbè il drone è più in alto qualsiasi si vabbè 5 secondi è passissimo raggiungiamo il drone più rischio e difendetelo eh vabbè sto lagando appoggio la cosa è più bella non la faccio laggiare perché c'è un drone drono che mi ha fatto il drone con tu aspetta lei si vengono dentro un open space diretto non c'è nulla non vedo nulla aspetta aspetta che non so che no aspetta aspetta e dove mai è non ci vedo non ci vedo è giù in fondo l'ascensore è andata verso l'ingresso principale ti dovrò dietro aspetta che ho sposto il drone se uno muore se uno muore che guardi il drone vieni vieni mi fai a staccare ti copro io vado poi ti possono messare trappone da qui ci siamo in piena ecco no no io no vero io ho i jager ti canto carriera 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 nooo ma che ritiro viena tutti tu è un modifico rimasto arrivi dentro ottenete il contenitore teniamo uno di vita tutti no lasciatemelo di martello e sta anche prendendo il video quindi si vedrebbe nel video perfetto prima volta che amazzano così 9-0-4 mi sa che alla fin fine potrei continuare a giocare senza fare schifo eccessivamente vanno di sotto sti qua sicuro non ci cosa fa niente mi è caduto vicino in testa andiamo a raggiungere lì facciamoci proprio il push estremo carico from agnello allora provo a mettere il drone a gioielleria lì al tunnel faccio l'unico con il niente meno 10 carreo meno 10 testa da me no meno 10 yegan ancora 10 secondi meno 10 doc ok ho messo il drone lì se almeno 10 pure a cap e se gli ci piace vada dronatemi dentro vado avanti vado avanti state sempre dietro quindi da qua ricarico copritemi 4C4 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 5C4 5C4 4C4 6C4 5C4 6C4 5C4 6C4 7C4 6C4 6C4 ok ho il capcan alle porte doc andato obiettivo vabbè io copro qua com'è capo copritemi sui lati attività nemica difendete la stanza e proteggete il contenitore tripla ho fatto una tripla e sono dai vabbè sto qua il primo con 5 kill fate 12 vabbè che non è finita però grazie col twitch hai puntecchiato tutto il team è un numero telefonico è il mio è il mio è il mio affagione mi vio lui attenzione no un po' solo dove rimanere dentro si che rimango dentro ma io i racer andiamo fuori raga metto i treppoli a casa e le metto fuori chi viene con me a metterle fuori chi le viene a mettere con me fuori ma le mette da sola ja guarda di più rischio vabbè ma io trovo vabbè ti ho vietato ti ho vabbè di più rischiare ho vabbè vabbè ce ne vabbè ci ho vabbè vabbè il vabbè avere dentro l'obiettivo a questo punto vabbè vabbè che vabbè 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 fare il tuo terzo lavoro ancora dieci secondi venga ho messo le treppole più brutte proviamo ho proprio uno sponchino non ho trovato il contenitore se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà ti hanno scoperto no sono lì sono spawnati a gioielleria no c'è l'abbana 40 di pitar dove è uscito cuccioli troppo calmo ok sta arrivando dalle scale dietro a gioielleria lì ok l'ho chiuso raga ma vedere se che stile ho fatto ecco sta da dove c'è open space aiuto sta arrivando froma vieni qua ho anche Marco si froma occhio a sinistra non c'è nessuno non c'è nessuno no no sdraiate sdraiate fra aiutami aiutami vabbè fuoco non lo prendo ancora aiutami prego eh chi è l'ultimo è il tesoro mi sembra non ce l'ha pushata ma io aspetto qua io aspetto qua 25 secondi eh da dietro 25 secondi 20 secondi GRANATA LANCIATA mancano 10 secondi vittoria la diventa 15 secondi la perra vincere con una tv oh vittoria brutto guardate il prefire ma del prefire che ce l'avevi visto prefire dai dimmi che torna ono 4 che raggiunto voi ne sono stufato di vederlo è ancora primo fatto 13 kg intanto quindi su quattro assist avrà punzecchiato gli altri con sentito col più c no me ne manca una per arrivare oro 4 continuo come squadra magari devo andare di già